Prosegue a Pescara il cantiere di riflessione quale città avviato il 23 luglio e arrivato all'appuntamento del 17 settembre. La riflessione questa volta si articolerà attorno al tema della gestione dei grandi eventi nello spazio urbano. Accademici, imprenditori, politici e autorità si confronteranno in piazza Ettore Troilo a partire dalle ore 16 e 30 su quelle che potrebbero essere definite prove da sforzo cui vengono sottoposte le città in occasione appunto dei grandi eventi per esempio musicali o sportivi. Si tratterà di una prima declinazione tematica della carta di Pescara sulla città. Le conclusioni al termine dell'incontro saranno tratte dalla senatore Luciano D'Alfonso. Parteciperanno tra gli altri il ministro dell'interno Luciano Allamorgese, il sindaco di Torino Chiara Appendino, il cardinale Mauro Gambetti e il presidente del CONI Giovanni Malagò. Al termine alle 21 da piazza Troilo ci si sposterà all'arena del mare per il concerto di Orietta Berti. L'evento che faremo venerdì 17 alle 16 e 30 in piazza Ettore Troilo che è la piazza che sta di fronte al tribunale di Pescara e rientra in questo filone che abbiamo avviato il 23 luglio con quale città, cioè ragionare le città come grande organismo da cui ripartire e l'incontro di venerdì è dedicato proprio al tema dei grandi eventi, cioè le grandi manifestazioni, le grandi iniziative che fanno conoscere un ingrandimento, un ingigantimento della città sia per le funzioni che svolge, sia per le persone che vengono, sia per la qualificazione delle sue funzioni, i grandi eventi internazionali ma anche poi quelli nazionali che sono poi un fatto specifico e peculiare della città che è il motivo per cui la città in quel giorno si fa mondo o si fa nazione. Certo questa che è una grande opportunità per una città, basti solo pensare a cosa è accaduto a Torino dopo le Olimpiadi del 2006, è anche un momento di rischio, un momento di sforzo per la città, è un momento in cui emergono criticità per il numero delle persone che arrivano, per il numero dei servizi che vanno erogati, per i rischi connessi sia in questo momento alle questioni epidemiologiche, sia ai rischi di ordine pubblico, di sicurezza, della qualità della vita dei cittadini che sono nelle città. Sarà un grande pomeriggio di lavoro e siamo convinti che produrrà dei grandi risultati.